Bella ragazzi, sono Dragorose, bentornati in questo lungo episodio di Chubus 2 Siamo qui nella tana della mazza Draghi e dobbiamo trovare le scaglie Quindi vediamo un po' Lì abbiamo visto che ci sono abbastanza scheletri Quindi dovrei dire di andare dall'altra parte Perché c'è una cosa verde sulla mappa, non lo so Serratura resistente, non vorrei che fossero qui E cazzo, 1, 2, 3, 4, 5 Eeeh, è un po' complicata Cazzo Merda 1, 2, 3, 4 Merda 1, 2, 3, 4 Allora 1, 2, 3 Ah, finalmente Ma mi rato dei punti, no Non si sa perché No, non mi rato niente però Un anello di pantaloni in pelle E un ricasso acuto Un'arma a due mani Ok, non mi lamento eh Non mi lamento Aspetta, no Io adesso li devo provare Questa qui a due mani, scusate Eh no, questo però fa molti meno danni Eh perché questo l'abbiamo potenzato molto di più Aspetta, voglio provare questo Togliendo quello Possibilmente 28 25 Cos'è questo più potente Ok, allora lascio questo Next Oppala La Ok, questo è molto meglio La Tu vuoi scappare? Non scappi da me Eh, troppo facile Oculus 100 metri utilizzi illimitati Questo mi piace Continuiamo A guardare bene No, qua non c'è niente Allora Aspetta, no Qua mi piace poco Sotto c'è qualcosa Ah Eccolo Ok, se Ok, finché Si Bugga così Va bene Ci piace Ma io devo scendere No, scusate Ma io devo andare dall'altra parte Devo anche scendere Nelle profondità Dei secoli Dei secoli Perché Perché io Non lo so ragazzi Eh Ma che cazzo salti Ma lo vado a uccidere Sto Cancaro Qua Ma ti ho fatto critico Ma vattene via Perfetto Allora Connettiamo Scendere Facciamo tipo La strada più difficile Io non voglio neanche sapere A cosa sto andando incontro Perché Veramente Qualcosa di Allucinante Però Questo gioco Cazzo Mi sta piacendo Sempre di più Chi è? Mancato Aspetta 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 Perché lì C'è qualcun altro Eccolo che arriva Aspetta Lui che scappa Oh Fammi il culo 40.000 ore A uccidere degli Schifosissimi E anche Inutili Scheletri Necris Il cacchio Perché non stanno a casa? Vabbè Continuiamo Ma Ma non è che Torniamo indietro Vero? Di qua No No Secondo me Veramente Tipo abbiamo Stiamo facendo La strada al contrario Chi è? Oli E' Direttura In tre Calma Una volta Uno Uno Due E tre Se muore Grazie E tre Se connetti Inteniamo Uccidere Ragazze Riceviamo Degli Attributi Bonus Se connetti Uniamo Uccidere Mostre Sono 500 Bene Sono ricompense Che ci dai Il gioco E questo Non mi dispiace Affatto Aspetta Ma posso Posso Veramente Andare Per Di qui Sì Che posso E dove Ci conduce Ah qua Semplicemente Ok Ci diamo La smette Di saltare Mamma mia Ha fatto un volo Ok però io mi sto rinempendo di inventare o di Di tutte e di più Aspetta io posso sapere dove sono diretto Scaglia di drago Ah lì proprio va bene Orca vacca La La smette di proteggerti Cacca Dà un fastidio perché non muori Ecco fai come il tuo amico Guarda Tac Tac Quante robe Perfetto Aspetta Artono indietro perché la roba è là Occhio Ok Di qua Si va di qua Si Ma dobbiamo riscendere No non dobbiamo riscendere Dobbiamo girare a destra Si ok Ok se non si proteggono Faccio una marea di danno Una marea di danno Aspetta ma è qui dove siamo passati però Sbaglio Ah no è la zona dove si è Si siamo andati d'altra parte Noi Bellissimo Perfetto Perfetto Sto diventato più Più facile Che è previsto Questo gioco Inventato pieno Sì lo so Una checa Scusa ma è una presa per il culo Dove sono le scaglie Ah è qua Dimmi che Seratura debole Ok forse sono qua Uno E due Se non sono qua Porca miseria Quanto mi incazzo Scaglia Uh bene Eh no però Ne ha detto che Che ne servono cinque Io Io ne ho trovata una qua Bisogna Continuare a cercare Perché Non ti ho depredato Ah giusto Sì ho capito Inventato pieno Adesso mi smonto Un po' di robe Come ad esempio Questo E ricevo Poi sta roba 39 39 Ok Distruggi 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 Sto lo lascio Sto lo lascio Ehm Non lo so Sto qui non lo so Sto qua non lo so Mamma mia quante robe Che abbiamo Guarda quante spade Ma ti rendi conto Distruggi E Distruggi 30 Distruggi 30 Distruggi E ancora Che questo lo lascio Questi qua Veramente Facciamo anche senza Perché questi Veramente Fanno abbastanza schifo Ormai C'è solo 7 di danno Vabbè Fanno anche 22 Di quella roba lì Però Ok Questo Lo andiamo a vendere Questa La lasciamo Anche quella lì Perfetto Allora Posso vedere Allora La prossima zona Dice che è qua Ma non è vero È lo stesso posto No ma Secondo me È sparso È sparso Dobbiamo Connettere Perché lì Ritorno indietro Dobbiamo vedere tutto Aspetta Visto che siamo passati Per di qua Andiamo per Di qua Adesso Forse qui Eccola lì Normale Porca miseria Secondo me Non Non so se Riuscirò A prenderle tutte Le scaglie Perché se Continua così Ok Meno male Che qua Le scaglie C'è C'è Gli ingredienti In generale Non pesano nulla Nella differenza Dei Skyrim Perché qua Veramente Altrimenti Beh a parte Che sono Due giochi Completamente Differenti Anche se Sono tipo Lo stesso genere Però vabbè Adesso Io vado con Con il calmo Perché voglio Vedere Ok Qui ci siamo Ok Quindi qui Dovremmo aver finito Perché C'erano solo Quelle due stanze Quindi adesso Ehm Dritto Adesso Andrei dritto Per di qua E andare verso La stanza Enorme Che dovrebbe essere Da queste parti Eccoli No ci sono ancora Di mostro Aspetta Infatti Secondo me Uno E C'è una Scaglia Nella stanza Stanza Grande Ma guarda Come te lo dico Yeah Yeah Cioè qua c'è Una roba Strutta Non mi piace Questa cosa qua Un po' Non mi piace Ah ok 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 Lì c'è anche Un libro Abilità Apri Resistente Ehm No Allora Per prima cosa Aspetta Vado a prendere A terra Questo qua A terra A terra Vediamo un po' Ok No Non ce l'ho Quindi a terra Ok Ed è uno di questi E' questo qui 6% di possibilità Di far cadere Il nemico Solo Umanoidi Attacca Attacca un nemico A terra Con spade O armi A puntete Per ucciderlo Immediatamente A terra Attacca un amico A terra Per ucciderlo Immediatamente E vabbè C'è qui altro Che argoniano C'è questo E' molto peggio Resistente No Questa non mi piace Non è vero Ci sono riuscito Scherzavo Un'altra scaglia Due scaglie E siamo A quanti scaglie No Sono ingredienti Vero Scaglie 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 Dove sono le scaglie O sono qui No Sono qua No Saranno In oggetti Però qui non è Eh Quattro Ce ne manca una Ce ne manca una Dove Cacchio sta L'ultima Forse è lì Però Non lo so Vabbè andiamo a vedere Va bene Proviamo Sabataggio veloce Serratura resistente Fammi vedere un po' com'è Uno Due Tre Quattro Uno Due Tre Quattro Cinque Perfetto E qua ci sarà L'altra scaglia Non è vero C'è dell'altra roba Ok Dove si può trovare Un'altra scaglia Qui non so se ci siamo stati Possiamo provare Tipo facendo Una roba del genere Quindi Mettiamo il senso Il segnalatore lì E vediamo Ce ne manca una Ragazzi Una scaglia Può Può essere ovunque Adesso io provo Provo lì Dove non ci sono i mostri È perché abbiamo liberato La zona Allora Due a che devo andare No con Sì volendo Posso anche Andare per di qua Ma secondo me Vabbè Ma la strada È la stessa Poi Allora di qua Si gira Per di qui Si scende Sì perché c'erano Anche le scale A chiocciola Quelle là Un po' strane Che andando per di qua In quella stanza Che sarebbe questa Perfetto Eh Non ora Aspetta Eh se c'è Se c'è questo qui No ce ne sono due Che sta arrivando Ecco Adesso Ok un andato Un andato Un andato A terra Non 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 Perfetto Che Trano Stanza E lì si continua Vabbè no ma sarà Una specie di uscita Ok prendi tutto E prendi anche Il tutto anche da questo tizio E Prendi Che cos'è Ma che casino Allora dov'è che Avevo visto lucicare Eccolo qua No migliorata No no Uno Ah ok no meno male No penne Savo chissà chi Che serratura è In realtà Ok Ok di livello 4 Non è vero Do cazzo è la scaglia Do è la scaglia Si continua allora Perché se non è qui Ah no qui Aspetta Forse qua Migliorata Va bene Uno Da Mi si è rotto Il tuo mandello Uno Due Tre Quattro Porco Uno Due Tre Quattro Ok Speriamo Chi è qui Sì Consiglia le scaglie Di drago A Zark Zarsk Zask Perfetto E come esco Da qui No dai Non è poi Vabbè da Qua possibilmente Quindi Segnatore là E seguiamolo Mamma mia Cos'è Sì Diciamo che In questo episodio Non è che Abbiamo fatto Una gra Cioè Cioè no Abbiamo fatto Tutta la La missione Quindi Ehm Aspetta Ok 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 Stiamo andando giusti Di qua a sinistra Ah giusto Che non è Che ho più Depredato Tiè Ok E da qui Perfetto Di qua Chiudiamo 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 la porta Così nessuno Può Entrare Perfetto Mi stavo Per Ammazzare Da solo E qua Si risale Si risale Si risale Si risale Oh yeah Si risale Che c'è Che c'è Quanto offri Quanto offri E cazzo Per Per quale motivo Vuoi le scaglie Non lo so Eh Lui vuole Armature Lui vuole Le armature Allora Dice Cosa offri 500 Luna Non lo so Però lui È quello Della confraternità Eh Ma poi Che cosa Gli 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 Diciamo Allora Facciamo Che io Non Cioè Io Ho fatto Il salvataggio Prima Quindi Non lo Facciamo Eh no Perché È collegata Alla missione Quindi No Vabbè È inutile Che fai Così Equivale Alla missione Perfetto Adesso Visto che io Non ne ho le palle Di farle Tutto a piedi Dove che devo andare Ehi Covo della mazzadra Capitano Perché È lì Capitano Dov'è che Devo andare Per rifare Lì la cosa Ma quanti Ma quanti ce ne sto Faris Scagli di drago Oh eccola Perfetto No io non mi ricordo Neanche allora A che Sdare Ce la facciamo Sì No dai Basta 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 laggare Basta laggare Basta laggare Basta laggare Guardan Dai guarda che mincazzo Neh Vabbè Se io non lo so perché fa così Non lo so Di qua Rissaliamo Sì Rissaliamo per di qua Oggi è anche una bella giornata Perché c'è un Un sole che Spacca le pietre E è qua che si Bugga ogni volta Allora è proprio qua sotto Mi dicono Infatti Posso fare un salto Un po' L'assassist creed Non è vero Però vabbè Già Grazie ma prima ho un altro lavoro per te sto andando un po' dietro per un ordine per la guardia città loro devono ottenere queste sordi a presto ma ora sono finito mi piace corregirli? beh, non corregirli la pagamento dovrebbe essere 300 oras per ogni ma ditele che dovrei rendere il prezzo per dire 1.300 per ogni 5 considerate che finiscono tu sembri come un uomo che sa cosa vuoi? come potrei fare il servizio? oh, e come sei? ma cosa me ne fai? va bene, comunque per questo episodio di 2Wolf2 è tutto vi ricordo che se non siete ancora iscritti al canale di iscrivervi se volete rimanere aggiornati sui prossimi episodi di questo gioco e di altri giochi sempre qui sul mio canale e esclusivi quindi vi ricordo di lasciare un bellissimo like e se vi è piaciuto il episodio mi ricordiamo anche di dire la vostra e mentre di scrivere se ancora non l'avete fatto noi ci risentiamo con un nuovo episodio di 2Wolf2 e bella grazie a tutti grazie a tutti